Ovviamente in questo video andremo a parlare di Champions League, dopo le partite di ieri tra Eintracht e Napoli che visto i partenopei vincere per 2-0 e la clamorosa sconfitta di Liverpool ad Anfield per 5-2 contro il Real Madrid dopo che erano andati in vantaggio per due gol. In primis, vi do comunque ben tornati o ben muti su un canale a seconda che siete già venuti iscritti e appunto dobbiamo analizzare queste due partite. Sul Napoli voglio spendere poche parole perché comunque è una squadra che conosciamo già tutti della quale ho parlato più volte sul canale e sulla quale c'è veramente poco da dire perché al di là del fatto che sia un'annata perfetta, quella nella quale è tra virgolette incappato il Napoli però ragazzi ha tutto, ha tutto, doti fisiche, doti mentali, una guida in panchina eccezionale, uno spirito di sacrificio, uno spirito di gruppo, ognuno sostiene l'altro, ognuno accompagna il movimento dell'altro. Ieri appunto nel post partita hanno fatto vedere quel bellissimo gesto di Usi Man che dopo il rigore sbagliato da Frascheglia gli ha detto, ehi ciccio, gioca testa alta, cioè non è successo niente. E questo è il sintomo di un gruppo eccezionale e comunque anche giovane, perché a parte di Lorenzo è comunque un 92 e forse pochi altri, comunque un gruppo, ripeto, giovane, con la grandissima sorpresa Anghissà, emblema, paladino del concetto di funzionalità. E più volte ho detto, quando vi parlai di Anghissà, quando Napoli lo prelevò dal Fulham, molti mi dissero, eh vabbè ma il Napoli va a prendere un centrocampista di un Fulham retrocesso. Aveva le caratteristiche adatte, una maturità adatta, ma soprattutto delle caratteristiche tattiche adatte, per Spalletti. Quindi, un giocatore non è in assoluto una pippa o un campione, molto fa anche il contesto nel quale questo giocatore viene calato. Se tu prendi Totti o Del Piero o Cristiano Ronaldo e lo metti in eccellenza, probabilmente 500 gol non li farei, non li farebbe, magari li farei io, non li farebbe. Per un semplice motivo, perché lui può avere anche le caratteristiche, o meglio, ha le caratteristiche troppo superiori per quella categoria, ma se poi non vieni servito, si gioca in undici a calcio. Quindi, sempre la funzionalità del giocatore deve essere messa a disposizione della funzionalità del progetto. Questo è il discorso. Ma parliamo appunto di Liverpool e Real Madrid. Festival dell'horror dei portieri, perché sia Courtois che Alisson hanno fatto due paperone clamorose. Ma anche qui, si deve dire in primis che Liverpool è incappato in un'annata negativa, perché comunque in Premier League è ottavo, quindi ben oltre, insomma, le posizioni in alta classifica delle ultime stagioni. Secondo me ha risentito tanto della partenza di Mané, perché ormai si era venuto a creare un giocattolino perfetto in quel modo. Tu togli Mané, metti un altro centro avanti, o metti un attaccante centrale, delle caratteristiche diverse, ed ecco che il giocattolino si rompe. Lo stesso Gakpo, messo come centro avanti, come attaccante centrale, anche lui ha detto, io ho bisogno di tempo per adattarmi a un altro tipo di gioco. Ora, ovviamente è presto sentenziare che sia un bidone o no. Però sicuramente Gakpo ha ragione, ma il Liverpool era venuto a creare una macchina talmente perfetta che se andate a cambiare un tassellino nelle zone nevralgiche, il castello casca e così è stato. In più, come ho anche sempre detto, vengono fuori i limiti del Liverpool, e sono tanti, sono veramente tanti. Soprattutto a livello difensivo. Quando feci un po' spartita di quando giocò con l'Inter, io dissi, ad esempio, come Terzini, Robertson e Alexander-Arnold, non sono dei grandi Terzini, perché la fase difensiva non la sanno fare. Contro l'Inter, a palla lunga, ci stava Perisic all'epoca. Quando Perisic veniva servito alle spalle di Alexander-Arnold, sì, perché giocava a destra Perisic, o a sinistra Robertson, o meglio, se giocava Perisic a sinistra, si trovava davanti Alexander-Arnold, se giocava a destra, si trovava davanti Robertson, quando i Terzini venivano presi a palla a scavalcare, ragazzi, gli esterni dell'Inter avevano il predominio. Non ho mai incensato Alexander-Arnold e Robertson soltanto perché magari a FIFA sono forti, o a Football Manager sono forti, o magari perché la maggior parte dice che sono forti. Difensivamente sono delle seghe, ma si squipedali anche. È normale che una squadra che lavora molto sugli attaccanti esterni, come il Real Madrid, che aveva Rodrigo e Vinicius, e i limiti di giocatori come Arnold e come Robertson si vengono a far sentire. In più una squadra che comunque anche al centrocampo, un po' me, ha giocato un 2004, il più giovane nella storia, ha giocato nel Liverpool in Champions League, Bacetic, con Henderson che comunque è in fase calante, e comunque con degli attaccanti che io non reputo dei super mega campioni. Da Firmino, Nunez deve ancora molto dimostrare, Gagpoidem con Patate, a parte Salah, che comunque anche Salah fa parte di quel giochino perfetto. Magari se tu prendi Salah e lo metti in un'altra squadra, non fa quello che fa Liverpool. Certo, adesso perché non rende? Perché deve farsi carico di responsabilità che prima venivano divise per tre. Quello adesso deve essere un pochino la candela mangiafumo delle responsabilità. Io se fossi Liverpool tornerei a puntare un pochino sul settore giovanile, perché ultimamente anche Liverpool meh, meh. quindi il disastro Reds fondamentalmente era in parte preannunciato. Nell'andare del tempo sono venuti meno, o meglio, sono venuti a galla i limiti della squadra. Fabinho è un altro che se gioca bene ti rompe il gioco avversario stile Lobotka. Lobotka. Da quando stava a Norcia hanno fatto una crescita esponenziale. Ecco, Fabinho farebbe un po' quel gioco, ma se poi Fabinho non gira, non gira neanche il resto. Questo è il discorso. E gli avversari penetrano la difesa del Liverpool come se fosse un coltello rovente nel burro l'estate. Quindi ragazzi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa partita, della situazione del Liverpool. Che insomma, per quanto io possa pensare appunto che siano nella fase finale di ciclo, magari qualcuno può avere un'idea diversa dalla mia. Fatemi sapere qui sotto. Vi mando un bacione e ciò al prossimo video. Ciao ragazzi!